Buongiorno, cosa desidera? No, aspetta, devo già iniziare Buongiorno, buongiorno Ma che bella signorina colorata che abbiamo qui Buongiorno, cosa desidera? Una stoffa verde Verde? Ce l'ho sicuramente, aspetti un attimo Pino, prendimi una stoffa verde No, no, quella è gialla Pino, verde No, quella è rossa Ah, buio, capito, non ti preoccupare Prendo le scale Guardi qui che bella verde Le piace, guardi E anche da mascar E anche da mascar Poi se non le vuole le butto dietro Le piace? Carino, sì, ma non è proprio quello che sto cercando Io vorrei un verde bandiera Verde bandiera ce l'ho sicuramente, aspetti qui là Pino, verde bandiera No, Pino, quella è bandiera tedesca, non c'è il verde Pino, no, quella è... Pino, ma quella è un po' la voce Poi mischiamo un po' di garete che posso dire a me Pino, no, quella è bandiera tedesca, che cazzo non c'è quello? Pino, no, quella è bandiera tedesca, non c'è il verde Pino, quella è nata bandiera... che bandiera hai? E' inventata il G-Nex C'è un verde? Svedesi, non c'è il verde Bandiera svedesi, non c'è il verde Non c'è il verde, aspetti, non va bene Io vorrei un verde più... vorrei un verde più Proto-Inglese Ecco, vorrei un verde Proto-Inglese Allora, tu fai questo Eh, certo, si vede che lei è uno che... E' attenta ai dettagli Anche alle sfumature Eh, sì, si vede che lei è una persona attenta alle sfumature Sì, sì, per favore, attento ai colori Pino, sì, allora, verde Proto-Inglese No, quella è Australia No, Pino Andai con l'amico Proto-Inglese Andai con l'amico Proto-Inglese Pino, lascia stare, scendo io Prendolo, scendo io Guardi qui che bello, eh E' così Proto-Inglese E' così Proto-Inglese Così Proto-Inglese Ci sono anche gli strass, guardi E' così Proto-Inglese Che, guarda, senta, senta È proprio madrelingua, guardi Yes, yes, senta qui Carino, sì, ma Non è proprio quello che voglio Sapete, io Vediamo qui che ho detto Sì, il verde In verde Sotto posto Sotto posto Sotto posto Le unge Sotto posto Sotto posto Sotto posto Sotto posto e ciao perchè il mistero è la luce di usare sapete che ha mai fatto la grado anche avuto il patente vabbè, ora è... vabbè è verde dove... Pino, si si lo so, abbiamo trovato uno più strano in te vabbè, allora Pino verde sottoposto del terrenino delle 11 a 30, vabbè no, no, Pino, poi è delle 11 a 34 no, è delle 11 a un quarto e poi magari ti devo essere mi scusi, sa, che non c'è proprio niente eh, mi scusi, sa, trovare un buon aiutante nel giorno d'oggi è davvero difficile Pino, vabbè, 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 scendo io prendo le scala e acciaccialo Guardi qua, che grado è questo? Guardi, verde sottoposto del terrenino delle 11 a 30 a precise guardi che bel verde io ma cazzo che te l'avevo? io ma santi carino, sì, ma non è quello che stai dicendo e allora cosa vuole? cosa vuole? allora, praticamente è un po' difficile a casa mia alle 11 a 24 ma non c'era le penne non c'entendo niente eh, soprattutto io non metto le l'auto e entra e entra e entra e entra l'ultima ragione di sole della giornata ma tu entri l'acqua ma se tu vuole va bene ma tu vuole bene eh, vuole bene va bene però lo stai dicendo a me che ha che pubblico non ti ha fai come si fa una speranza il tuo obiettivo non dovete mai perdere di vista il fatto che vi sta guardando il pubblico non lavate le spalle e vi dovete rendere ben visibili al pubblico se no il pubblico perde attenzione sulla vostra persona allora praticamente dicevo che è un po' difficile spiegare a casa mia alle 17 e 24 entra prima del tramonto l'ultimo raggio di sole della giornata quando entra va a battere sul portapenne in alto si va a badare e poi si RIMBAT va a sbattere sul portapenne rimbalza sull'ambadario e poi si divide in due parti una va a sbattere sulla scrivania mentre l'altra va a riflettere sul terrazzo ecco la macchonella rotta quella no sulla macchonella rotta che riflette poi sulla foglia che ho bene riflette la piangia che è sul terrazzo ecco la quinta foglia quella mangiata al tempo io voglio un verde illuminato in quel modo ah dicevo sono stata e tu mi parisci sono stata chiara no? voglio sono stata chiara? si ma va bene ho capito Pino hai preso appunti? si si questa è matta lo so scendo il video facciamo che dire? faccio un attimo si attenda un attimo guardi qui non ci crederà ma ho usato una webcam e ho fatto una fotografia digitale a casa sua esattamente alle 11 17 24 e guardi qua è identico le piace? muore ma guardate le buone la luce qui con una torcia di ok di simbolo il raggio di sole poi ci sono varie sfumature come piacciono a lei e non atti alla luce poi le cose si ma sapete che figliati hanno letto? è come anel ma questo vuole per la persona bello si esatto ma cosa? è troppo giallo è scuro è scuro è scuro e allora mi dica come lo vuole me lo dica come lo vuole senta hai detto che è più bello stiamo a ridere no ah tu hai ingerzato nero fino a quel momento poi effettivamente io lo penso no sul pisello non ho niente ma sotto ho due palle così bravi